Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. In questi ultimi tempi, la cronaca nazionale ci sta mostrando notizie drammatiche di giovani vite spezzate in incidenti che non concedono scampo. È un bilancio devastante, segno di un'urgente emergenza senza tregua. Eros ci ha lasciati e l'intera nazione è sconvolta dalla sua improvvisa scomparsa. Per capire meglio quanto accaduto, diamo uno sguardo più attento alla tragica storia di Eros Manenti, un uomo di soli 49 anni originario di Barzana. La sua vita è stata bruscamente interrotta solo pochi giorni fa a Castione della Presolana, in un incidente terribile che ha scosso profondamente la sua comunità. La sua famiglia, insieme a tutti gli italiani solidali che hanno espresso il loro cordoglio, è rimasta incredula di fronte a una fine così atroce. Eros stava guidando la sua moto quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo finendo fuori strada, sotto gli occhi sgomenti dei suoi amici. Questo tragico evento ha colpito duramente la sua giovane moglie Ingrid, recentemente vedova a causa di un crudele scherzo del destino, e i suoi due figli rimasti orfani troppo presto. In un gesto di sostegno e solidarietà, coloro che conoscevano Eros hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare la sua famiglia. Attraverso questa iniziativa, vogliono preservare i ricordi dei momenti felici trascorsi insieme, prima che un tragico incidente in moto li privasse di lui per sempre.